Visita sorpresa ieri a Riace. Dopo Roberto Saviano del paese dell'accoglienza ha fatto tappa il rocker Piero Pelù, in vacanza sulla riviera Ionica. L'artista fiorentino, accompagnato da amici, ha voluto visitare i laboratori di vetro e ceramica gestiti dagli immigrati. Quindi ha incontrato il sindaco Mimmo Lucano, manifestando il suo personale sostegno alle politiche di integrazione portate avanti dal primo cittadino famoso in tutto il mondo. Questo territorio e la sua cittadinanza stiano creando un caso mondiale di accoglienza concreta, fattiva, possibile, entro termini estremamente legali e umanitari. Riace è quindi un esempio per tutti e non è un caso che il suo sindaco sia il sindaco più rock and roll della storia.